Il nostro inviato si trova già qui dove lampeggia questa lucetta, cioè sulla valvola che separa l'atrio sinistro dal ventricolo sinistro. Ci puoi dire dove sei esattamente? Sì, sto camminando proprio sulla famosa valvola mitrale. Quello che vi proponiamo in questa puntata è un viaggio che mai nessuno in passato ha potuto compiere, perché è un viaggio nel sistema solare. Quando ho cominciato a fare questo lavoro non avrei mai pensato di percorrere così tanti chilometri, di incontrare così tanta gente e di scrivere così tanti libri, dice con modestia Piero Angela. Da quando ho appreso in mano per la prima volta un microfono sono passati più di 65 anni, due terzi di secolo e continuo a fare con passione questo mestiere, come se fosse il primo giorno. Si dice che si diventa vecchi quando non si fanno più progetti per il futuro. Se è così, aggiunge Angela, mi ritengo fortunato perché è vero che l'anno prossimo compirò 90 anni, ma sarà anche quello un anno pieno di cose da fare, da inventare, da realizzare. Insomma, conclude Angela, non vi libererete facilmente di me. E arrivederci a tutti voi, grazie per averci seguiti in questo lungo viaggio, a presto.